Ciao tesori, ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Io mi sto facendo il mio caffè dopo pranzo e siccome stavo guardando una serie tv e per l'ennesima volta ho visto... Aspettate perché è stata una cosa un po' improvvisata e ho le luci messe un po' così, vabbè insomma c'è una faccia povera me. Vabbè dicevo stavo guardando una serie tv e ho detto no basta questa cosa tutte le volte che vedo, che sento questa frase nelle serie tv mi dà fastidio. Io ho detto voglio farci un video e siccome ho appena pranzato e voglio bermi un caffè ho deciso di prendermi un caffè con voi. Allora, cioè vuole essere una chiacchierata ovviamente informale ma cos'è che non è informale su questo canale? Cioè diciamocelo no? Però il fatto che sia un canale informale non vuol dire che non voglia portare contenuti di un certo tipo. Lo sapete, cioè allora se mi seguite da un po' lo sapete, se siete capitati qui per la prima volta non lo potete sapere ma questo è un canale misto. Si chiama Monica Vlog di tutto un po' perché io su questo canale ci faccio video relativi a tutto quello che mi va di fare, che mi interessa, insomma. Quindi non è il classico canale monotematico con gli iscritti che guardano tutti i video perché ci sono alcuni video che non li guardano a quasi nessuno perché piacciono a poche persone. Ok, il caffè me lo sono bevuto. Scusate, sono un po' stanca perché sto comando il raffreddore e quindi ho la testa un po' tutta frastornata. Cos'è che mi dà fastidio? Mi dà fastidio ogni volta che vedo film, serie tv dove ci sono persone che hanno delle dipendenze e queste persone vanno e scende di aiuto, no? E sempre in questi centri di aiuto si mettono in cerchio e dicono io sono viziato, io sono alcolista, io sono bulimico, io sono viziato nel gioco. E tutte le volte devono iniziare la frase dicendo questo, come se fosse prima di tutto un'ammissione di colpa, secondo come, cioè, come se, allora, secondo chi fa queste cose parte della guarigione è l'ammissione di questo vizio, di questa dipendenza. E fin lì va anche bene perché prendere consapevolezza di avere una dipendenza è fondamentale perché se non ne sei consapevole non potrai mai guarire. Cioè, ma questo in tutte le cose della vita, se non si è consapevoli di quello che si sta facendo, no? Mi pare ovvio. Quello che non mi piace è il modo perché diventare consapevoli di un problema che possiamo avere non significa identificarsi. Io non so se questo video sarà visto, verrà giudicato male, sicuramente un video contro tendenza perché veramente siamo bombardati di video o di film o di serie tv dove ci sono persone con dipendenze e vanno in questi centi e dicono io sono così, io sono cosà. Però non me ne frega una beata cippa, eh? Perché comunque io ho deciso di stare qui su YouTube, di essere una persona vera il più possibile per quello che mi riesce. Quindi questa cosa mi frullava nella testa da tanto tempo, ho detto basta, la devo portare sul canale. Non condivido, non condivido assolutamente questa cosa perché è proprio sbagliata la formula e le parole comunque hanno un peso. Tutto quello che si verbalizza diventa una realtà, la nostra realtà o può diventare la realtà di chi ci ascolta. Quindi verbalizzare io sono alcolista, io sono viziato nel gioco, io sono bulimico, io sono anoressico e diecimila oppure io sono viziato, sono dipendente dalle droghe, io sono dipendente dai farmaci. Tutte queste cose, dopo mi devo fare una pulizia energetica perché con tutti questi io sono che ho nominato, cioè mamma mia signore, no? Sono tutte cose, scusate, è partito il frigorifero ma ero proprio qui in cucina e ho voluto registrare qui. Sono cose queste, le parole hanno un peso e diventano una realtà nel momento in cui le pronunciamo. Per cui questo identificarsi in una dipendenza, io non credo che sia la soluzione, non credo che aiuti. Poi magari ci sono persone che vanno a questi gruppi d'aiuto o escono dalle dipendenze, per carità. Però non credo che sia una formula che aiuta veramente le persone. Può aiutare le persone ad andare in questi gruppi, parlare, condividere, sfogarsi, fare i passi, quelli di chiedere scusa. Ora non ho approfondito ma insomma probabilmente è quello che è utile. Ma io credo che pronunciare quella frase col verbo essere sia un rallentamento del processo di distacco da tutti i tipi di dipendenza. Perché io credo fortemente nell'uso delle parole, credo fortemente nella disidentificazione. Perché nel momento in cui uno dice io sono così, si identifica in quello che sta dicendo. Quindi una cosa che questa cosa l'ho imparata un po' di anni fa. Poi per carità non è che io sto bene, sono un fiore. Ma va sapi te la mia anima quando sei incarnata che che percorso vuole fare. Probabilmente il mio percorso dovrebbe essere questo. Indipendentemente da tutto. Quindi non voglio dire fate come me, dite come me e prendetemi ad esempio perché io sono la persona che sta meglio sulla terra. Assolutamente no. Che questa, vabbè, parliamone. Però trovo che non... Cioè ho le mie convinzioni. Io mi sono resa conto ormai diversi anni fa che non bisogna mai identificarsi in una dipendenza o anche in una malattia. Quando, per esempio, sento le persone che dicono, ah sono fibromialgica. No, non sei fibromialgica. Hai la fibromialgia. Non sei. Perché se te dici io sono, vuol dire che identifichi tutta la tua vita, tutta la tua persona, tutto quello che sei in quello. E secondo me non è giusto, non va bene. Non va bene identificarsi con una dipendenza, con una malattia, con un deficit. Quindi a me da veramente, sta cominciando a dare tanto fastidio vedere nei video queste cose, nei film, nelle serie. E mi piacerebbe che piano piano ci fosse qualche regista illuminato o qualche anche persona illuminata, ma sicuramente ci sono già, solo che io non so che ci sono, non le conosco, che fanno anche dei gruppi di autoaiuto in cui dicono io ho questo problema, io ho quest'altro problema. No, io sono. Spero di essere chiara, se poi non sono chiara chiedetemi pure sotto i commenti. Per esempio, ormai più di dieci anni fa sono stata operata della sindrome di Arnold Chiari. Ok, io non sono con la sindrome di Arnold Chiari. Io ho, ho o ho avuto la sindrome di Arnold Chiari, ho la fibromialgia, ho problemi di dipendenze miste, varie, tendo ad avere problemi di dipendenze, ne sono consapevole. Ma mi rifiuto di identificarmi in quello perché io sono molto di più. Io sono tante cose, non sono fibromialgica, non sono stata bulì, cioè ho avuto problemi di bulimia, ma non quella grave, però insomma ho avuto problemi di compulsione col cibo, sì, ma non mi voglio identificare in quello. Ho problemi di salute, sì, ho avuto problemi anche gravi di salute, sì, ma non sono stata quello. Non ho mai detto, sono una malata di tumore. Ho un tumore, punto. Ho la fibromialgia, sì, probabilmente ho la fibromialgia, quasi sicuramente ho la fibromialgia, ma non sono quello. Quindi, veramente, questo video voglio che sia un modo molto amichevole per parlare con voi, un modo molto così diretto per dire a... Ragazzi, occhio alle parole che usiamo, diventiamo più consapevoli anche quando parliamo di cosa stiamo dicendo. Ricordiamoci che il verbo essere identifica tanto, quindi io sono, punto, sono. Evitiamo di usare il verbo essere legato a tutte le definizioni, a tutte le cose che ci pietrificano in qualcosa e soprattutto, lo dico anche a me stessa, perché una delle cose più difficili da fare, ragazzi, è volersi bene, accettarsi come si è senza giudicarsi, che poi è, secondo me, è la cosa fondamentale, cioè, è il segreto, no, poi alla fine è quello, che sembra una cavolata, ma non lo è, perché spesso abbiamo, quasi sempre abbiamo dietro un giudizio, un giudizio che ci portiamo dietro, da nostre mancanze, dalla famiglia, cioè non voglio entrare in queste cose, non ho neanche la capacità io di spiegare certe cose, però, veramente, questo verbo essere stiamo molto attenti a come lo usiamo, quindi evitiamo di identificarci, dicendo io sono così, io sono cosa, io ho questa cosa, ho quest'altra, ma poi proviamo a liberarci il più possibile, proviamo a smettere di giudicarci, proviamo ad essere più amorevoli con noi stessi, e proviamo ad imparare, veramente, mettiamoci l'impegno ad ascoltarci, ad imparare a guardarci, sì con amore, anche in modo spietato, cioè della serie, senza raccontarcela, come dice la Giorgia Sitta, io me lo dico, ragazzi, finirò la voce, guardate i video di Giorgia Sitta, perché lei sì che sa che ha la capacità, non io, lei ha veramente la capacità di spiegare certi concetti, quindi, basta, vorrei dire altre mille cose, ma siamo già a 12 minuti di video, non voglio fare una pappardella infinita, quindi, se vi va di continuare questo discorso, lasciatemi delle domande, lasciatemi dei commenti, e io vi mando un bacione, e mi vado a fare un altro caffè, perché sto raffreddore veramente mi ha frastordita, ciao tesori!